eccoci qui un saluto ragazzi ben ritrovati a tutti buona serata da milanello la casa del milan e milanisti su youtube vi invito a iscrivervi al nostro canale se avete ancora fatto mi raccomando lasciare un bel like giornata frizzante che si conclude si sta per concludere si avvia verso la conclusione con notizie agrodolci innanzitutto fatemelo dire io sono uno un po scaramantico no una volta avevo fatto dei pronostici facevo dei pronostici poi una volta l'ho azzeccato mi avete rimproverato non faccio da quel momento più pronostici sul milan giornata di vigilo di partita porto subutio di marco van basten che possa portare bene credendo che possa influire sulla partita in realtà poi non è così però si pensa un po a tutto vi confesso che dopo questa scia positiva tornando a casa dal lavoro no o comunque tornando a casa se vado in giro a fare la spesa a un certo punto mi trovo di fronte a un bivio o posso andare dritto o posso andare a sinistra ultimamente stavo andando sempre a sinistra nonostante fosse più scomoda perché c'era la serie positiva del milan no e quindi andavo sempre di lì adesso adesso torno dall'altra parte che mi è anche più comoda perché appunto facevo caso anche queste sono cavolate per carità però io vivo il milan proprio a 360 gradi devo dire una cosa è anche questa una cosa molto secondaria di contorno però fatemela dire che allegri c'era un po gufata allegri in quella famosa intervista non intervista confessione al corsera ha detto secondo me in maniera scorretta perché non bisogna mai fare i paragoni con le altre tanto che pioli poi dice io non guardo le altre penso alla mia così doveva fare anche lui in maniera scorretta aveva detto provate a togliere al milan leao e teo hernandez oh ragazzi leao non lo abbiamo avuto l'ultima partita abbiamo perso e poi si è fatto male teo hernandez una gufata ma parlasse dei suoi non parlasse delle altre squadre ovviamente lo dico con il sorriso sulle labbra è una coincidenza in ogni caso che pare della sua e non pare della nostra così evitiamo qualsiasi dubbio detto questo sosta benedetta sosta davvero benedetta poi parliamo anche di mercato che vi do qualche particolare sosta benedetta perché ci permette di insomma da un certo punto di vista maledetta perché quando perdi vuoi tornare in campo subito è una sosta in cui continuiamo a pensare a quella gara e quindi da fastidio dall'altra parte però benedetta in termini pratici perché calabria affaticamento si riposa e riprende e calabria è importante abbiamo visto quando manca comunque lì al momento destra deve prendere ancora le misure ma soprattutto è importante perché perché teo hernandez non salta diverse partite oggi poi vi ho dato la notizia live sul mio canale personale non sulla nostra community ve lo linko qui sotto così potete scrivere la notizia che appunto saprete in tanti teo hernandez ha avuto uno stiramento all'aduttore e ieri si pensava anche ad altro poi questa mattina eravamo tutti un po' più tranquilli lo stiramento all'aduttore è un problema del quale avremmo fatto tutti volentieri a meno però non è neanche un problemone e quindi benedetta sosta perché senza questa sosta lui salterà una credo massimo due partite i tempi di recupero sono di 2-3 settimane e lui si è fatto male domenica con Pioli che ogni tanto gli chiedeva ma ti devo sostituire perché lui aveva un po' un fastidio alla coscia ha detto no voglio restare, no voglio restare e ha dimostrato grande attaccamento era anche con la fascia del capitano nel secondo tempo per l'uscita di Calabria ebbene quindi lui salterà con ogni probabilità la gara con l'Empoli e poi l'obiettivo è giocare con il Chelsea noi giochiamo di sabato con l'Empoli 3-4 giorni dopo appunto con il Chelsea e poi se non sbaglio di domenica contro la Juventus quindi settimana prossima lui verrà verificato ci sarà nella gara contro la Juventus molto probabilmente e indubbio per la gara di 3-4 giorni prima con il Chelsea speriamo di averlo ovviamente però questa sosta ragazzi credetemi è lo vedete non ve lo devo dire io è benedetta perché se non ci fosse stata la sosta Teo avrebbe saltato non una barra due partite ma giocando ogni 3 giorni 4-5 poi in calendario partite difficili con Chelsea e Juve e Chelsea quindi bene così vedremo se giocherà Balloturei oppure Dest contro l'Empoli sulla carta potrebbe non essere così un dramma detto che preferirebbe avere Teo però recuperiamo Leao che ci è mancato dall'altra parte e poi andiamo sul discorso mercato è una sosta benedetta anche perché passano 15 giorni e sono 15 giorni in meno senza Rebic e Orighi a proposito di Rebic la schiena va meglio quindi c'è un cauto ottimismo per riaverlo dopo la sosta e sarebbe un recupero importante per quanto riguarda Orighi nei prossimi giorni e nelle prossime ore un componente dello staff medico di Pioli andrà in Belgio e verificerà con il medico della nazionale le condizioni di Orighi per capire se questo indurimento del tendine è stato superato a che punto è il suo problemino e se si può recuperarlo subito dopo la sosta o comunque in quel trittico di partita in cui è fondamentale giocando anche in Premier avere un giocatore che la Premier la conosce non in Premier in Inghilterra contro una squadra inglese un giocatore che conosce bene la Premier League appunto quindi meno male meno male ragazzi soffriamo un po' di più perché abbiamo ancora quella sconfitta con il Napoli ma poi trarremo benefici perché non perdiamo tanto giocatori o le recuperiamo quindi benissimo così pausa nazionale con tanti giocatori impegnati nei nazionali ci sono tanti Under 21 Wranks Ciao insomma verificheremo sono davvero tanti sono pochi quelli rimasti a Milanello e quindi sono giorni di recupero energie e abbastanza di attesa di rientro dei nazionali che rientreranno appunto la metà della prossima settimana si giocherà di sabato lo ricordiamo primo ottobre 20.45 ad Empoli e io farò la telecronica sul nostro canale YouTube qui su Milanello però sono giorni anche in cui i nostri uomini dello scouting sono scatenati ci sono diversi osservatori in questi giorni impegnati nelle nazionali maggiori ma anche e soprattutto nelle Under 21 laddove lo sappiamo andiamo molto a pescare giocatori che potranno diventare importanti non tanto per la primavera ma per la prima squadra Under 21 Wranks Under 21 Ciao Under 21 Adli Under 21 Calulu e ci sono insomma alcuni profili che vengono attenzionati per cercare appunto di ricavare ulteriori informazioni per capire se ci sono risposte positive dubbi o risposte negative che magari abbandonano la ricerca appunto di determinati profili però ecco poi cercheremo di andare un po' più a fondo su quali giocatori verranno osservati in questi giorni in queste due settimane di sosta per capire anche che tipo di profilo il Milan cerca chiudo intanto con il ricordarvi che alla fine di questo video vedrete in sovrapprensione il video sulle AO con novità importanti sul suo futuro basta cliccare o pigiare e lo andrete a vedere ma aggiungo un aspetto perché tra i vari rinnovi di cui si sta parlando Leao Calulu Ben Nasser mi sono rivisto gli highlights di Ben Nasser ha fatto un partitone incredibile è fondamentale Leao sicuramente il top ma Ben Nasser è fondamentale per portare il rinnovo attenzione perché nelle prossime settimane potrebbe esserci un nuovo rinnovo oltre a uno di questi tre più facile Calulu che è quello di Gollivie Giroud che si sta meritando un altro anno di contratto e che prenderà il posto anche nell'immaginario di esperienza di Ibrahimovic che quest'anno vivrà la sua ultima stagione da gennaio in poi quindi con ogni probabilità Giroud resterà i colloqui con il suo entourage sono iniziati da qualche settimana e tutto lascia intendere che nelle prossime settimane si possa arrivare alla fumata bianca per un altro anno di contratto per un giocatore per il quale soffriamo anche del decreto crescita che sta facendo una stagione brillantissima perché tra sette partite di campionato due di Champions nove partite ma non le ha fatte tutte già a cinque reti vero un paio su calcio di rigore ma devi anche trasformarli e al di là dei calci di rigore è sempre vivo soprattutto nelle ultime partite si prende sulle spalle la squadra e va a combattere ma là si è fatto una partita incredibile eppure appunto nell'ultima gara ha vinto tanti contrasti aeri sponde ha fatto gol ha rischiato di farne anche altri quindi aspettiamo ma dovrebbe arrivare anche il suo rinnovo e ne sono molto contento vi invito a lasciare un bel like qui sotto iscrivervi qui attivate la campanella se siete cuori rossoneri chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano e ora ecco in sovraimpressione il video su Raffa Leao se l'avete già visto vi rimando a quello di questa mattina in cui c'è anche un montaggio grafico con un ottimo Fabrizio Rota e una possibile rivoluzione al Milan con un cambio di modulo andate a vederlo un abbraccio e che dire che il Milan sia con voi oggi più che mai domani ancora di più alla fine benedetta sosta ciao ragazzi colgo l'occasione per ricordarvi anche che sul mio canale personale qui sotto c'è il link potete iscrivervi ogni tanto do notizie anche lì di Milan quando non faccio il video di qui lo faccio di là e quindi se vi va iscrivetevi mi fa soltanto piacere un abbraccio a tutti e ci aggiorniamo presto ok buona serata viva il Milan e forza 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 ciao ragazzi ciao